Torna come ogni inizio estate tra ville storiche palladiane della provincia di Vicenza vi leggendo il festival letterario che quest'anno coinvolge 16 comuni tra cui oltre che nel territorio vicentino 4 in provincia di Padova, 1 in provincia di Verona. Il primo appuntamento in programma oggi 30 margio a Montagnana con Mauro Corona, l'ultimo è il 29 luglio a Villa Draghi di Montegrotto d'Erme con Tommaso Labate. Nel mezzo ci sono 30 appuntamenti per un totale di 32 eventi con alcuni degli autori più interessanti del panorama librario italiano. L'edizione di quest'anno coinvolge 16 comuni di cui 11 sono in provincia di Vicenza, 4 nel Padovano, 1 nel Veronese. Tra gli autori presenti quest'anno ci sono nomi noti della musica come Ermal Meta, 12 giugno a Montagnana, Francesca Michelin, 4 luglio a Poiana Maggiore. Del cinema come Francesca Neri, 21 giugno a Teolo, Veronica Pivetti, 21 luglio a Montagnana, 22 luglio a Zanè della Politica, Bobo Craxi, 29 giugno ad Agugliaro, poi i cultori del cibo Marco Bianchi, 8 giugno a Lonigo, Oscar Farinetti, 20 luglio a Dorgiano. Dopo due anni di Covid non poteva mancare un immunologo, categoria rappresentata ad Antonella Viola, 23 giugno, Villa Sanfermo, Lonigo. Sempre sul tema, il 19 luglio a Vicenza ci sarà Giuseppe Remuzzi. A farla da padrone naturalmente giornalisti, politologi, accademici, filosofi, tra tutti Toni Capuozzo, 13 giugno Sossano, Mario Giordano, 7 luglio Rovolone, Alan Friedman, 30 luglio Barbarano Mossano, immancabile il Vicentino Daniele Zovi, il 24 giugno a Colonna Veneta. Da segnalare l'approdo della manifestazione in piazza dei Signori a Vicenza, prima volta per Villeggendo, il 15 giugno con Massimo Polidoro.